In questa lezione ci occuperemo del singolare e del plurale dei nomi. Iniziamo col dire che per i nomi maschili si usa DEA, sarebbe il nostro IL, LO, mentre per i nomi femminili si usa DI, sarebbe il nostro LA, anche per i nomi al plurale si usa DI, che traduce I, Gli, LE. Poi abbiamo anche l'articolo DAS, che si usa per i nomi neutri, che possiamo tradurre in italiano con QUESTO, QUESTA. IL, DEA, IL cucchiaio, DEA e SLOWFAL. I, DI, I cucchiai, DI e SLOWFAL. IL QUADERNO, DEA SCHRIBEFT, I QUADERNI DI SCHRIBEFTE. LA COTOLETTA, essendo un nome neutro in tedesco, si usa DAS, DAS SCHNITZEL. LE COTOLETTE, DI SCHNITZEL. LA MATITA, DER BLAISTIFT. LE MATITE, DI BLAISTIFTE. DOVE LA MATITA? WO EST DER BLAISTIFT? DOVE SONO LE MATITE? WO SIN DI BLAISTIFTE? IL QUADERNO, DER SCHRIBEFT. DEA SCHRIBEFT. I QUADERNI, DI SCHRIBEFTE. DI SCHRIBEFTE. DOVE IL QUADERNO? WO EST DER SCHRIBEFT? DOVE SONO I QUADERNI? WO SIN DI SCHRIBEFTE? IL BIGGETTO, DI FA-KART. DA NOTARE CHE NON SI USA L'ARTICOLO DEA, CHE Viene usato per i nomi maschili, ma si usa l'articolo DEA, CHE Viene usato per i nomi femminili. Infatti, in tedesco, FA-KARTE è un nome femminile. Tradutto letteralmente FA-KARTE significa SPOSTARSI CARTA, CARTA PER SPOSTARSI. IL BIGGLETTO? DI FA-KARTE. I BIGGLIETTI DI FA-KARTEN. DOVE IL BIGGLETTO? WO EST DI FA-KARTE? DOVE SONO I BIGGLETTI? WO SIN DI FA-KARTEN? IL MENU. DI SPEISEKARTE. I MENU. DI SPEISEKARTEN. DOVE IL MENU? WO EST DI SPEISEKARTE? DOVE SONO I MENU? WO SIN DI SPEISEKARTEN? IL FRANCO BOLLO? DI BRIEFMARKE. I FRANCO BOLLI. DI BRIEFMARKE. DOVE IL FRANCO BOLLO? WO EST DI BRIEFMARKE? DOVE SONO I FRANCO BOLLI? WO SIN DI BRIEFMARKE? LA SIGARETTA. DI ZIGARETTE. LE SIGARETTE. DI ZIGARETTEN. DOVÈ LA SIGARETTA? WO EST DI ZIGARETTE? DOVE SONO LE SIGARETTE? WO SIN DI ZIGARETTEN? IL CUCHAIO. DER ESLÖFEL. I CUCHAI. DI ESLÖFEL. DOVE IL CUCHAIO? WO EST DI ESLÖFEL? DOVE SONO I CUCHAI? WO SIN DI ESLÖFEL? Ci sono vocaboli che al plurale in tedesco rimangono invariati, come ad esempio cucchiaio, che come avete visto, al plurale si scrive sempre allo stesso modo. LA COTOLETTA. DA SCHNITZE. LE COTOLETTE. DI SCHNITZE. DOVE LA COTOLETTA? WO EST DA SCHNITZE? DOVE SONO LE COTOLETTE? WO SIN DI SCHNITZE? IL COTELLO. DAS MESA. I COTELLI. DI MESA. DOVE IL COTELLO. WO EST DA SCHNITZE? DOVE SONO I COTELLI? WO SIN DI MESA. IL MAGLIONE. DER POLOVA. I MAGLIONI. DIPOLOVA. DOVE IL MAGLIONE? WO EST DER POLOVA. DOVE SONO I MAGLIONI? WO SIN DIPOLOVA. LO SCOPA. DER BESEN. LE SCOPE. DI BESEN. DOVE LA SCOPA? WO IST DER BESEN? DOVE SONO LE SCOPE? WO SIN DI BESEN? IL LENZUOLO. DAS BETTLAKEN. LE LENZUOLA. DI BETTLAKEN. DOVE IL LENZUOLO? WO IST DAS BETTLAKEN? DOVE SONO LE LENZUOLA? WO SIN DI BESTLAKEN? LI MÁGINE. DAS BILD. LE IMMAGINI. DI BILDER. DOVE IL IMMAGINE? WO IST DAS BILD? DOVE SONO LE IMMAGINI? WO SIN DI BILDER? IL LIBRO. DAS BUCH. I LIBRI. DI BÜCHER. DOVE IL LIBRO? WO IST DAS BUCH? DOVE SONO I LIBRI? WO SIN DI BÜCHER? LA SCATOLA. DI BOX. LE SCATOLE. DI BOXEN. DOVE LA SCATOLA? WO IST DI BOX? DOVE SONO LE SCATOLA? WO SIN DI BOXEN? LA ZATTERA. DER FLOS. LE ZATTERE. DI FLOSSE. DOVE LA ZATTERA? WO IST DER FLOS? DOVE SONO LE ZATTERE? WO SIN DI FLOSSE? DOVE SONO I DIPINTO? DAS GEMELRE? I DIPINTI? DI GEMELRE? DOVE SONO I DIPINTO? WO EST DAS GEMELRE? DOVE SONO I DIPINTI? WO SIN DI GEMELRE? VEDIAMO ALCUNE REGOLE PER FORMARE IL PLURALE DEI NOMI. PER MOLTI NOMI FEMMINILI AL PLURALE SI AGIUNGE LA N OPPURE E N AD ESEMPIO DI FRAU LA MUGIE OPPURE LA DONNA AL PLURALE DI FRAUEN LE MUGLI LE DONNE DI SHWESTA LA SORELLA AL PLURALE DI SHWESTA LE SORELLE PER MOLTI NOMI MASCHILI ED ALCUNI NOMI NEUTRI AL PLURALE SI AGIUNGE SOLO LA E AD ESEMPIO DEA FILZSCHTIFT IL PENNARELLO DI FILZSCHTIFTE I PENNARELLI SOLO PER ALCUNI NOMI MASCHILI AL PLURALE SI AGIUNGE LA N OPPURE E N AD ESEMPIO DEA YOUNG IL GIOVANE DI YOUNG I GIOVANI DEA STUDENT LO STUDENTE DI STUDENTEN GLI STUDENTI DEA FETTA IL CUGINO DI FETAN I CUGINI SOLO PER ALCUNI NOMI MASCHILI E NEUTRI AL PLURALE SI AGIUNGE LA UMLAUT E CIOE LA METAFONIA che sono che sono quei due puntini che si aggiungono sulle vocali E LA E FINALE AD ESEMPIO AD ESEMPIO DEA ZUC AD ESEMPIO LA COTOLETTA DAS SCHNITZEL LE COTOLETTE DI SCHNITZEL IL MAGIONE DAS PULLOVA I MAGIONI DI PULLOVA LA SCOPA DEA BESEN LE SCOPE DI BESEN MENTRE SOLO PER ALCUNI NOMI MASCHILI TERMINANTI SEMPRE IN E-L E-R OPPURRE IN E-N SI AGIUNGE ALLA PRIMA VOCALE LA UMLAUT AD ESEMPIO DEA FOGEL L'UCCELLO AL PLURALE DI FOGEL GIOCELLI DEA FATA IL PADRE AL PLURALE DI FETA I PADRI DEA GARTEN IL GIARDINO AL PLURALE DI GERTEN I GIARDINI I NOMI FEMMINILI TERMINANTI IN C-H-E-N E IN L-E-I-N AL PLURALE NON CAMBIANO AD ESEMPIO LA RAGAZZA DAS MEDICHEN LE RAGAZZE DI MEDICHEN LA SIGNORINA DAS FREULEIN LE SIGNORINE DI FREULEIN PER MOLTI NOMI NEUTRI MONOSILLABICI AL PLURALE SI AGIUNGE E-R OPPURE E-R PIU LA UMLAUT AD ESEMPIO L'IMMAGINE DAS BUILT LE IMMAGINI DI BILDA IL LIBRO DAS BUCH I LIBRI DI BIUHA TUTTI I NOMI DI ORIGINE STRANIERA AL PLURALE PRENDONO LA S AD ESEMPIO L'AUTOMOBILE L'AUTO DAS AUTO LE AUTOMOBILE LE AUTO DI AUTOS PER TUTTI I NOMI FEMMINILI TERMINANTI IN I-N AL PLURALE SI AGIUNGE IL SUFFISSO NEN AD ESEMPIO L'AMICA DI FREUNDIN LE AMIKE DI FREUNDINAN PER ALCUNI NOMI FEMMINILI MONOSILLABICI AL PLURALE SI AGIUNGE LA E PIU LA UMLAUT AD ESEMPIO DI HANT LA MANU AL PLURALE DI HENTE LE MANI LA CITTÀ DI STAT AL PLURALE LE CITTÀ DI STETTE I NOMI COLLETTIVI I NOMI ASTRATTI ED I NOMI DI ALCUNE SOSTANZE NON HANNO IL PLURALE AD ESEMPIO LA VERDURA DAS GEMUSER LA FRUTTA DAS UBST L'AMORE DI LIBE L'ODIO DER HAS IL LATTE DI MILCH IL BURRO DER BUTTA BOD GAMES BOB альный E GAMES GAMES